Ma non penso O passa subito come prima Sì perché prima hai visto Il treno è arrivato Che il passaggio a livello Era giù Si era appena chiuso Sì ma penso che stavolta lo faranno passare Spero Che sia la volta buona Perché prima si è chiuso il passaggio a livello Ma il treno è rimasto fermo Eh appunto E193 Grazie Targata Bellinzona E193 466 Con un intermodale potente Questo tira Porca miseria se tira Si Eh sono i Gli intermodali questi Boschi mi sa che viene da lui Perché ha attarcato Bellinzona Bellinzona No Esti No